Sì, sono io. Chi parla? Sono Bruno. Come stai? Sei libera tra un'ora. Per te, certo che sì. Ho dei biglietti per il cinema, per un film che è fantastico. Ah sì? E quale? Mi hanno detto che è straordinario. Ti passo a prendere o ci incontriamo lì? Il secondo è perfetto, ok. Perfetto. Con chi parlavi? Con Pia, con Pia, perché a volte è così pesante, Mattias, che ho deciso di non darle retta, davvero. Ok. E hai voglia di uscire oggi, di fare qualcosa, non so, andare a vedere un film, per esempio? Al cinema? Sì. E me lo dici ora? No, no, Mattias, no, dire il vero, sono molto stanca. Ti scoccia se rimandiamo a domani, perché sono... No, no, non c'è alcun problema, lo sento dalla voce, tranquilli, tutto ok. Bene, io allora vado a dormire, ok? Ci vediamo, ciao. Ciao, ciao. Stammi bene.